Ciao ragazzi, allora ci sono delle cose a dire, intanto oggi è il mio compleanno, auguri, grazie. Poi ho una nuova asta del microfono, poi scusatemi il ritardo, non sono riuscito né a vedere la Silent Hill Transmission né lo State of Play di Playstation, perché purtroppo non era neanche un orario comodo. Comunque adesso andremo a vedere il nuovo trailer di Silent Hill 2 Remake e i 13 minuti di gameplay. Excuse me. I'm sorry, I was just... It's okay, I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. I'm looking for Silent Hill. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. Is it dangerous? Maybe. I'll be careful. I'm not lying. I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. No. You shouldn't be here. I'll be good, I promise. Tell him, I'll be good, please. No, please. Ok. Allora, 8 ottobre è la data, questo lo sapevamo. Ci sta. Già meglio, secondo me, rispetto agli altri trailer. Però lei, ho visto delle critiche, delle minacce di morte solo perché ha le guanciotte un po' più gonfie. Ora, al di là di quello, manca di espressività. Guarda le animazioni del viso, ma non solo sue. Parlo in generale anche di James. James è fatto bene il modello di James, ma... Guarda, c'hai gli occhi fissi. Ok. Ti dico, mi piace tutto dell'ambientazione, tutto quanto. A me l'unica cosa che... mi viene da dire boh, sono i combattimenti. E, e, e lei che mi fa andare. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda questo scartino. Quella sta roba qui. C'è questa sorta di stordimento. Non so se sono i mostri che tirano un urlo. Guarda, per me si è alzato un po' più l'aspettativa rispetto agli ultimi minuti. Vabbè, rispetto a quello che avevamo visto l'ultima volta. Quello era terribile. Ok, vediamo. No, 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 no. No, 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 no. Aspetta. Un indimenticabile viaggio dentro i più oscuri recessi della mente umana. Bella una descrizione. Psst. Questa вся... Questa passenda era nostra strada speciale. Hai sagomeno che suicidalò che ieri un��질 me anche se non ho provato. potrebbe essere qui un giorno, ma tu non l'hai mai fatto. Ho una lettera. Il nome sull'enveloppe diceva Mary. Eccoci Nebbia è figa Non so dirti quanto sia realistica ma è molto figa Non lo so, a me Non mi trasmette le stesse cose del gioco È un altro gioco Ho capito, se è un altro gioco non gli daresti lo stesso nome Bello Bello Oh sì, sono gli originali Che bello Bellissimo Bello Il ferro che raschia Oh, questa è un gioco Oh, questa è un gioco Ah, hanno cambiato il posto Diovelo incontri la prima volta Non ha la cerniera Lui ha una camicia di forza Fatta con la sua stessa pelle Semplicemente hanno voluto aggiungere Questi dettagli Queste cuciture Che non ti dico Mi dispiace neanche troppo Guarda che animazioni Da tipo Cioè lui Prende il bastone Senza il minimo sforzo E poi lo prende come se sapesse che fosse già lì Oh, è tutto figo I suoni L'ambientazione Tutto Solo le animazioni sono brutte Fatto bene, scusa Ah, lo so Ah, c'è da dire che sono felice Perché so che ci saranno delle nuove zone da esplorare Era abbastanza chiaro Però Sono felice Bello se nemmeno Le cose lui sono avanti Se stai leggendo questo Lascia questo posto Non è ciò che sembra C'è un altro lato di esso Nascosto Dal resto Tin Fin Non so cosa sia Es paper Come la carta Alcune volte Dovresti semplicemente guardare dietro di te Laura Dovresti semplicemente guardare dietro di te Cosa hai lì? Niente del tuo negozio Tu non ti amavi di Mary Cosa? Ehi, aspettate Un doppiaggio Un doppiaggio Secondo me è fatto Senza bravo Devo dire che La bambina è l'unica che Che? Effettivamente Come è fatta Cioè, sembra Veramente Qualc'è Che sembra Che sembra Bella Maria Mi piace Sì L'hanno cambiata un po' Però secondo me è bella Ci sta bene Ma anche lei Se la metti Cioè No Se Secondo me Se ti fanno vedere il personaggio così Non dici Sì, a me sembra Maria Vabbè Bea Una cosa che va bene Ti piacerà Forse sembra un po' Troppo giovane Cioè Dovrebbe dimostrare L'età di James Ok Sembra molto più giovane Sembra sua figlia Non sembra Una sua coetanea Che c'è? Non so Però bello Mi piace Let's look around Bello Vabbè È una mappa È una mappa Bello Mappa Uguale No Non è vero Piscina S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ma poi che possè Guarda Ti dirò Ti dirò Mi piace Questa mappa Perché Ci sono Gli stessi posti Più delle aggiunte Ma hanno cambiato La disposizione Questo è molto buono Perché secondo me Va a creare L'ansia Nell'esplorarlo Per un giocatore Che magari è veterano Perché magari Non sa esattamente Come inventarsi Essendo che È disposto Non è diverso Però bello Mi piace Se ti segna Ancora Se ti segna Le porte Le cose Certo Sì Avete visto Prima che si è terminato Un corso No Vento Il direttore Ha richiesto Il Dei file Dei tre Cruciali pazienti Tu sai A chi si riferisce Potresti per favore Portarle lì Sì Portarle lì Al software Però sembra residentivo Ma a te Le ambientazioni Ti trasmettono Quello che ti trasmette Il gioco originale Sì 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 Secondo me Ci sono Le ambientazioni Bu A me Sembrano Troppo Pulite No Mi piace Perché Bello Bello Cupo Sì 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 Mi piace Laura Wait E vi fermate No non sono stupidi eh Io te lo ritiro Bello Oh madonna Ma non mi Oh non tanto le soundtrack Per me Forse la seconda parte L'importante di Sanity Sono i suoni Di fondo Ok E ci sono gli stessi Gli stessi suoni Beh si hanno riutilizzato gli stessi Però sono armonizzati bene Con dei suoni più realistici Più È più bello C'è un buon lavoro Il comparto sonoro Perché Perché Chi ci lavora è lo stesso Di vent'anni fa Vorrei vedere Non è solo quello Il suono è lo stesso Tutte due E sia sound Che music Che sound Hai capito Quindi sono quelli dei suoni No anche music Solo quelli che si occupano Della parte uditiva È uno solo Va bene Solo quello che si occupa Della parte uditiva È lo stesso È anche il designer Dei mostri Oh Where is that girl? Ok Oddio Il fatto Allora Ci sta Eludere I mostri E passare in modo stealth Però così È davvero Un po' troppo Easy Non lo so Che altro Vorrei capire Se i mostri Possono passare Da una stanza All'altra Però A un momento Che ci sono le luci C'è Se te le porta Aperto E non lo so E' veramente lentissimo Però Che è lì che si fa colpire Ok Dai ci sta Dai 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 Va bene Sai cosa che dà fastidio Che Che un gioco come questo Si riduca al Dai è accettabile Mi piace il sonno Della radia È strano L'avrei fatto su un po' più forte Ah l'ago Non so Il suono Di quando prendi oggetti Non c'è Doppietà Sembra il figlio Di Di Resentivole Della Sofas Bello Si è alzata Nello stesso identico nome Un spasso Bello Alla serie Ancora Uh i creeper Sto cercando di riconoscere Le stanze Ma mi ricordo che Sono disposti In modo diverso Io Non sto dicendo Adesso C'è Nessuna delle stanze Ok Ti sorprendono pure Mentre guardi Mi spara male Mi spara male Ma non parlo di Spara male nel senso di Movimento dell'interfaccia Dello schermo Non mi riferisco Non mi riferisco a James Mi riferisco anche alla mira Di chi sta giocando Suoni dei mostri Sono un miso Tra originali Che nuori Stanza di isolamento Stanza di isolamento Ma questo è sempre l'ospedale Che ho flashato Che potesse essere Il labirinto Il controverso Alimento energetico Che il dottor Militello Consiglia agli uomini Noi per niente Stiamo vedendo Senti La 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 Maria Che In questo momento Sembra troppo Giovane Lei sembra Troppo Vecchia Di faccia Non so Sembra che ha 12 anni Non ha 8 Vabbè Mary è il mio amico Abbiamo riuscito al hospital L'anno scorso Stop Lire Allora Scusate Non mi credi Scusate 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 Lora But I can't let you just run around this place You might get hurt Hurt by what? Look Just Stay with me Ok? This is no place for a kid Fine But Fine Stay with me Run around Ma perché Allora Io non capisco perché James sembrava davvero isterico nell'originale Ok Cioè You liar Diceva Qua Stop lying Si è fumato un cannone 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 Oh magari si è fumato un cannone Era molto più Ah Era più accecato qua E tro Non so come dirti È molto Troppo pacato È molto Quieto Ma nel tono di voce Dico Laura I'm sorry I didn't mean Fine Don't believe me See if I care Hey Let go Sorry Laura But I can't let you just run around this place You might get hurt Hurt by what? Just Stay with me Ok This is no place for a kid Fine But There's something I've got to get Laura It's important What is it? A letter For Mary What? I hit it In there You sure this is where you left it? It's in the back Behind no pipe Ok Wait here Open the door Laura Why should I? I'm a liar right? Want me to open it? Huh? Do ya? Do ya? Let me hear you little brat In your dreams Fart face Please open the door There's something in here Sure there is A big lying fart face See ya fart face Laura Laura Mhm Mmm Sicuramente va giocato per capire certe cose Qui però bisogna fare un discorso su Angela Non è solo una questione di guanciotte che è un po' più gru No, no, non sembra lei Cioè se tu la guardassi così Non sembra lei E oltretutto Sembra Il suo avere una faccia Di un certo tipo Ti trasmette certe emozioni Nel senso che Angela Sembra molto sciupa Molto consumata Mentre qua è Troppo pulita E' pucciosa, non so come, è carina Quest'immagine penso che ti faccia capire Alla perfezione quello che intendo Col problema del design di Angela Maria ho detto Ci sta secondo me Cioè lo capisci che qua Li guardi in faccia E c'ha la faccia d'arteico Non ha nessuna espressione Ma tu percepisci quanto gli è stata scavata l'anima Da qualcosa che gli è successo Perché noi ci attacchiamo a questo tipo di cose Noi persone che giocano a Silent Hill 2 Perché semplicemente Silent Hill 2 E' un prodotto quasi perfetto ragazzi Guarda Meglio così che fare Che ne so Fare James Nero No perché sai come sono Come la Disney Basta Ciao 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 ciao